Se ne è parlato da tantissimo tempo, è stata difficilissima, è durata troppo a lungo, però alla fine il roaming è finito. Quando io dico il roaming è un bel esempio di cosa vuol dire un pezzo di unione dell'Europa in più, che è qualcosa di utile per il singolo cittadino, parlo di una cosa che per la vita di un singolo cittadino mi rendo conto che è piccola, ma dimostra che cosa vuol dire i passi avanti di quello che si stanno facendo e a chi dice ma ci vuole ben altro, io dico che il benaltrismo finisce per essere la tomba di tutte le cose positive.